Benvenuti nella Gorà. In questo centro nevralgico della città, ogni angolo è intriso di dialoghi, ferventi e commerci vevaci. Nel fervore del mattino, le prime luci del sole pennellano di dorato le colonne di marmo che delimitano la piazza. I passi risonanti sulla stricata in pietra risuonano come una melodia, una sinfonia urbana che annuncia l'inizio di una nuova giornata. Il profumo dell'olio d'oliva fresco e del pane appena sfornato si mescola con il dolce aroma dei fiori di cedro. Nell'effervescente ambiente della Gorà, un uomo dall'aspetto un po' rude emerge dalla folla. L'uomo è circondato da una moltitudine di persone, tra cui giovani impaziati di imprendere e anziani desiderosi di mettere alla prova la loro sapienza, accumulata nel tempo. Con una maestria oratoria eccezionale, egli introduce le sue domande, apparentemente semplici, ma progettate per penetrare i veri della superficialità che avvolgono le verità più profonde della vita. L'onestà è una virtù universale o cambia a seconda delle circostanze? chiede. Mentre i suoi interlocutori, alcuni desiderosi di ribattere, altri più timorosi di rispondere, lo fissano con attenzione. L'uomo che parla è Socrate. Io sono Thomas Cipriani e questo è il mio podcast di filosofia. Immaginate di essere uno dei giovani ateniesi che circondano Socrate. Lui vi pone una domanda apparentemente semplice. Che cos'è la virtù? Come reagite? Vi sentite in imbarazzo? Sconcertati? Ecco il metodo socratico all'opera. L'arte è di porre domande, non per seminare discordia, ma per costruire una scala verso la verità. La domanda di fondo, tuttavia, è ancora più importante. Siamo davvero consapevoli di ciò che crediamo di sapere? Socrate non fornisce una risposta pronta sull'etica o sulla virtù. Al contrario, scompone le risposte preconfezionate dei suoi interlocutori, come se stessi togliendo i mattoni da un muro mal costruito. È la virtù forse il coraggio? Chiede. O la saggezza? O la giustizia? Le domande di Socrate non servono a trasmettere conoscenze, ma per imparare un metodo di indagine, e i suoi interlocutori ne sono affascinati e intimoriti. Socrate dice di esercitare l'arte della maieutica, che è l'arte di far partorire. Socrate afferma, anche io sono nella situazione simile a quella delle levatrici. Anch'io faccio partorire, anch'io sono sterile. Aiuto a partorire se stessi. Quando mi accorgo che il mio uditore sta partorendo illusioni, falsità e menzogne, io cerco di strappare da loro queste malformazioni. Anche le levatrici, infatti, sanno somministrare i farmaci. Socrate non ha scritto nulla. Per Socrate la verità non è qualcosa che si possiede, ma che si costruisce. La ricerca della verità non ha un fine, è un'evoluzione, per questo non si può scrivere. La ricerca è infinita e lo scritto blocca questa ricerca. E una vita senza indagare è una vita che non merita di essere vissuta. Socrate ha avuto da giovane una grande crisi filosofica. Un giorno un suo amico che si chiama a Chirofonte è andato dall'oracolo di Delphi, dove c'era il tempio più importante della Grecia, dedicato ad Apollo. E qui ha chiesto alla sacerdotessa Pizia, chi è l'uomo più sapiente della Grecia? La sacerdotessa, con risposta non del tutto esplicita, ha risposto Socrate. Quando Socrate lo è venuto a sapere, è entrato in crisi perché si è chiesto come mai fosse lui l'uomo più sapiente. Sapeva che gli idee non mentono e così ha cominciato a indagare il significato del risponso. Ha cominciato a cercare la ragione delle cose, è andato per le strade di Atene facendo domande alle persone. Che cos'è l'amore? Che cos'è l'amicizia? Che cos'è la giustizia? E è andato dai poeti, dai politici e dagli artigiani, sperando di dimostrare che lui non era il più sapiente degli altri, ma si è reso presto conto che nessuno di loro sapeva dare spiegazione della propria sapienza. Allora ha capito di essere sapiente perché sapeva di non sapere. Socrate inoltre ci ha offerto un paradosso straordinario. Nessuno fa il male volontariamente. Egli afferma che se conoscessimo veramente il bene faremmo il bene. Il male, secondo il filosofo, è figlio dell'ignoranza. Tuttavia, la curiosità di Socrate gli costò cara. Il filosofo viene accusato di corrompere la gioventù e di blasfemia. E la sua sentenza è stata la morte tramite il veleno di Cicuta. Un veleno terribile che porta la lenta paralisi del corpo. Gli ultimi momenti ci sono raccontati dal suo discepolo Platone nell'Apologia. Prima di morire, Socrate si rivolge all'assemblea che lo ha condannato e dice, ma dovete sperare bene anche voi, o giudici, davanti alla morte. E se non altro, credere è vero solo questo. Che a colui che è buono non accade mai nulla di male. Né vivo né morto. E conclude con queste parole stupende. I miei figliuoli, quando saranno giovani, castigateli, o cittadini, tormentandoli come io ho fatto con voi. Se vi paghino aver cura del denaro o d'altro, più che della virtù. E se paghino voler mostrare d'essere, qualche cosa non essendo nulla, svergognateli, come io ho fatto con voi. Perciò che non curano di quel che devono curare, essi credono di valere qualche cosa, non valendo nulla. Se farete ciò, io e i miei figli avremo ricevuto da voi quello che era giusto che ricevessimo. Ma già ora è di andare. Io a morire, voi a vivere. Chi di noi andrà a stare meglio, solo a Dio dodo saperlo. Nel mondo della vendita si dice spesso che chi domanda, comanda. E forse Socrate è stato il primo a comprendere il potere e la forza delle domande. Ma le sue indomabili domande sono un invito a riflettere e per noi a dialogare, proprio come avrebbe fatto lui.